Oggi si occupiamo di qualcosa di molto specifico, in modo particolare di quelle che possono essere le garanzie che solitamente gli istituti di credito acquisiscono in sede di erogazione e di finanziamenti. Diciamo che le garanzie si distinguono in due grosse categorie, le garanzie reali e le garanzie personali. Una tipica garanzia reale è rappresentata dall'ipoteca, che accompagna la concessione, in modo particolare l'erogazione, di tutti i mutui fondiari e ipotecari. La banca praticamente scrive ipoteca, garanzia del finanziamento che concede. Quindi quel credito che la banca vanda nei confronti del cliente diventa un credito privilegiato, nel senso che è garantito non solo dalla firma del cliente, ma anche da un diritto reale, cioè dalla garanzia su quel bene. Quindi nell'ipotesi in cui malaguratamente il cliente non dovesse eventualmente pagare il finanziamento, la banca può attivare quella garanzia e può far vendere eventualmente l'immobile, trovandosi in una posizione di privilegio, perché ha iscritto ipoteca in sede di erogazione del mutuo rispetto agli altri creditori. Altre forme di garanzie reali possono essere anche rappresentate dai pegni, o meglio, in ambito bancario, le garanzie reali maggiormente diffuse sono l'ipoteca e eventualmente i pegni. I pegni, qualora eventualmente una linea di credito, un mutuo, un finanziamento personale, uno scoperto di conto corrente, per l'impresa un portafoglio anticipo su fatture, vengono comunque concessi dalla banca con l'acquisizione di una garanzia reale rappresentata eventualmente da somme che o l'impresa stessa, o eventualmente il socio, l'amministratore, o eventualmente la persona fisica, nel caso di finanziamenti concessi a persone fisiche, mettono proprio a garanzia per un importo pari a quello erogato, o per un importo eventualmente minore proprio del finanziamento. Però un'attenzione particolare, io la vorrei un attimo soffermare su quelle che sono le garanzie personali, e in modo particolare sulla fiduzione, che poi è la garanzia più diffusa in ambito bancario. Le fiduzioni, allorché praticamente, supponiamo, faccio un esempio abbastanza pratico, io concedo un finanziamento ad una persona, ad un soggetto tizio, e a garanzia di questo finanziamento, oltre alla firma di tizio, che quindi comunque risponde con il proprio patrimonio di queste eventualmente obbligazioni che contrae nei confronti della banca, acquisisco anche eventualmente la firma di garanzia di un altro soggetto, Caio, che può essere un componente della famiglia, ma anche una persona terza. Questa fiduzione, le fiduzioni personali, quindi le garanzie personali, si distinguono in due grosse, o meglio, in ambito bancario si distinguono in due grosse categorie, che sarebbero le fiduzioni omnibus, che eventualmente possono anche estendersi agli altri finanziamenti, o altre linee di credito, o altre operazioni che l'obbligato principale contrae, oppure la fiduzione specifica è quella che riguarda specificatamente quell'operazione di mutuo, quell'operazione eventualmente di apertura di credito o altro. Il garante, e su questo aspetto vorrei soffermarmi un attimo, perché spesso capita poi che nell'ambito della gestione specifica dei rapporti al garante vengono qualche dubbio. Il garante, nel caso di fiduzione rilasciata, quindi di firma di garanzia rilasciata in favore eventualmente di una persona, che può essere una persona fisica, ma anche eventualmente di un'impresa, risponde, nei confronti della banca, con tutto il suo patrimonio delle obbligazioni che eventualmente vengono contratte dall'obbligato principale. Fin quando l'obbligazione principale rimane nersa, l'obbligazione accessoria, comunque l'obbligazione di garanzia, quindi la fiduzione, rimane viva. E' un aspetto sul quale spesso si aprono vivaci dibattiti tra il fiduzione e anche gli istituti di credito, è quella della liberazione di questa fiduzione. Spesso il garante, magari dopo aver rilasciato la firma, chiede a distanza di tempo di voler essere liberato da questa fiduzione, eventualmente da questa garanzia, cosa che è lecito chiedere, ma che non è che viene concesso eventualmente con una certa facilità del fiduzione di credito, soprattutto allorché la fiduzione è stata considerata un elemento determinante ai fini della concessione dell'eventuale finanziamento. Fermo restando che, logicamente, qui non si può fare un discorso generico, ma va tutto ricondotto alla specificità dell'operazione che quella fiduzione garantisce, quindi agli importi e o d'altro. L'unica cosa sulla quale mi sembra opportuno soffermarmi è che allorché si rilasciano delle fiduzioni, eventualmente delle firme di garanzia in relazione a finanziamenti concessi a altre persone, colui che sottoscrive la fiduzione, sia essa specifica, sia essa comunque una fiduzione omnibus, deve porre particolare attenzione in quanto la fiduzione comunque comporta una serie di obbligazioni che spesso non si riducono a periodi di tempo molto brevi, ma possono anche interessare a periodi di tempo medio-lunghi, periodi nei quali praticamente colui che rilascia la garanzia è chiamato a rispondere dell'obbligazione principale, ne risponde come proprio patrimonio e spesso può trovarsi anche una situazione nella quale non è facile neanche che questa obbligazione venga svincolata facilmente dall'istituto che l'ha acquisita per l'eventuale erogazione del finanziamento dell'obbligazione principale. Particolare attenzione quindi nel momento in cui si rilasciano delle firme di garanzia perché le stesse comunque comportano una serie di obbligazioni che spesso non esauriscono i loro effetti nel brevissimo periodo. Grazie. Grazie a tutti.